Salve, mi chiamo Antonietta, sono la mamma di Anna Maria Fusco che canterà Tintarella di Luna di Mina. Che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le pelle, e se c'è la luna piena, tu dimenticandida. Da dove venite? Da Agnone Cilento, in provincia di Salerno. Che siete venuti a fare qua dal Cilento? Per vedere questa ridente cittadina, la fortezza, le terme. In realtà sono venuta qua per cantare ovviamente. Da grande voglio fare proprio la cantante. Allora, mi piace molto cantare, poi quando canto sono felice. Degli esercizi che avete fatto ieri con Arianna e Federico, qual è la cosa che ti è piaciuta di più? La posizione numero 4. Come sono andati? Bene, hashtag divertimento al 100%. Hashtag castrocaro spacca. Hashtag sempre più su.